Maestro, lei non sa una cosa e adesso gliela spiego io perché lei è un maestro di lore ma anche io ho studiato un po' del passato di Lordran. Sif e Artorias erano conosciuti per un grande attacco di coppia, la museruola di radice oscura. La museruola di viola si... Arrivò! Questa invece è la... Forza del deserto! Qui si crepa, 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 qui non si crepa, quindi andiamo. Oh mio Dio c'è un golem lì! Quilana, mia amata, dai potere a queste fiamme e che il nostro matrimonio sconfigga questa bestia immonda. Ragazzi, 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 ragazzi. Dio la S.I.L.D.A.S.K. la principessa! E via, oltre la nebbia aranciona. Si gode, ragazzi, mamma, se si gode. Ti ho visto, maiale. E eccoci in Crash Bandicoot, ragazzi. Sono fatti per non inseguirti se capisci che devi scappare. No, non distruggere questo posto pieno di sapere! No, tira anche calci! Aia! No, 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 no! Sei più umano di altri guerrieri che ho affrontato! Mamma mia! Safe! Maiali! È una fattoria questo posto! Andiamo, maestro. Andiamo di sopra. Provavano a scrivermi, ma... Che cazzo? Cosa? Cosa sei? Non sono pronto! Il golem portava la principesa sul suo cristallo. Pendente rotto. Riverenza. Vuol dire che... Allora, è un pendente. Quindi siamo oggetto a chiave, dovrò mostrarlo a qualcuno. O lo facciamo vedere alla tipa? E puoi provare! Vado. Eh, si gode. Sì, Firenze, fallo. Entra in questo vortex. Evidentemente spazio temporale. Mano? È una mano? Oh mio Dio, questa è stata aggressiva. Piena di occhi. Giardino del santuario. Esatto, sì. Dark disaster. Ah, è riuscito a fare quello che volevo fare io! Eh, eh, quella è la... Volevo fare esattamente quello. Ah, no, cazzo, ma il duello... Scusami, scusami, picchiami. È un duello onorevole, picchiami. Tirami un colpo, scusami, scusami. Dagli un colpio, un colpo. Dagli una spadina, una spadatina. Cosa? Ma quello è il potere... Oh, no, no, no! Quello è un potere... Ok, questo era molto di più di quello che dovevi fare, ma va benissimo. Oh mio Dio! Ok, va bene. Lo prendo come una rivincita per aver bevuto. Quindi c'è una magia... Legata... A quel portale. Me l'ha mostrata Dark disaster. Mmm... Sì, non avrebbe dovuto. Destina. Pensavo fosse Sigmaria per davvero, invece è Sigmario. Che trappola! Hai bisogno di gamba. Ho bisogno di una gamba. Ma ce le ho. Vediamo, ci sarà una sorta di puzzle di velocità. Ma che cazzo... Ma che cazzo... È una chimera! Stavolta per davvero! È una vera chimera! È una vera chimera! Come cazzo voli? Oh! Questo ce l'ha messo... Ce l'ha messo Settile senza palle. Dove va? Dove va, chimera? Dove va? Ma fate ad agrarvi oltre la nebbia! Ma una volta fatto quello... Prima trovare Dusk per avere il pendente? Eh sì, esatto! E ora posso dirti... È una cosa artificiale! È perché questo è il DLC del gioco! Quindi nel gioco voi avete trovato la seal? Cioè Dusk di ola seal? È bella? Fine? È bella, fine, esatto, sì! Porca droida! Detto questo... Aspettate un secondo che mi è arrivato un messaggio in... Non leggerlo! No, 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 no! Avvivo! Oh mio Dio! Nobile cavaliere! Fuori dal mio giardino! Che fungo di merda! Non sono che porca puttana! Eh, sono tutti, eh! Eh, che cazzo! Oh no! Mamma mia, si sono alleati! Che cazzo siete voi? Da Norlondo vengono questi! Guardali, guardali! Smuff e Pinotto! No! No! Mi hanno stunnato! Devi usare la tua aratura! Ah! No, no, no! No! Sono stato punito da Artoria! Punito! L'ho da lontanissimo! Ma non ho l'anello del calco! Maestro l'ha preso! Maestro, lei è incredibile! Lei mi inturgidisce! Qualsiasi cosa possa essere inturgidibile! In un non morto ha molto significato! Assolutamente! Sarò pure non morto! Ma mi emoziono ancora! Yes! Non è yes! Oh! Ma c'è un'anima! Qualcuno è morto lì! Io! Oh! 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 Eh? Ah! Ok, ok, ok! No? Sì, credo Non andare indietro Perché? Perché te l'ho tolto l'ascensore per scendere anch'io Ah, ok, ok Miyazaki So che soffri Ti capisco, no No, so già la faccia che stai facendo Lo so che fa male Ma è una di... Lo so, lo so, lo so Posso buttarmi di sotto, maestro? Non l'hai vista la mia spada con gli... Ho preso la spada a due mani Vediamo cosa dice dopo E nel caso scegliamo Talcio del deserto, no Hai subito la forbice E per questo Meriti un inchino Anche io, anche io, maestro Esatto Aspetta che Insieme? Facciamo insieme? Aspetta, aspetta, aspetta Fai l'inchino profondo Maestro Non sono ancora... Non è ancora mezzanotte Maestro È vero, non è venerdì Maestro Lo shortcut Lo shortcut Guardi maestro, sembra una faccia Lo vede il nasino Oh mio dio Oh mio dio Ora so perché c'erano tutti quei luci L'inchino abissale No maestro No Ok Oh sì maestro Maestro Lei l'ha fatto apposta Ho fatto bene a chiamare Lei mi ha salvato Sì Che predict ragazzi Maestro Lei è così sacro Si fermi Si fermi Si fermi Stavolta lo voglio Ok d'accordo Sono pronto Ti ho salvato la vita E quindi farò della tua Quella che rimane Andiamo Ma è Artorias Quella è la mia spada Oh no Ha perso Non aver paura Riposerai in pace Are you sure about that? Ottimo Eh ora Ah E io beva Sì altro Qualsiasi cosa sia Di stare lontano Are you sure? Molto più forte Mamma mia Ah Fada sacrile Sì ma Ah No No Strarti Che in mano mia No No Cambia Baffato Dio No 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 Cosa è successo? Si è disconnesso il controller Di tutte Ma è attaccato Ma di tutte le cose che potevano succedere Oddio Aspetta Vabbè Era così Fico Quello che arriverà presto insieme o in una vera e propria co-op per quanto io in background ti mostro e non preoccuparti dell'esatto Non farti domande specifiche Considera come a livello narrativo da Virgilio Ora che purtroppo Soler non c'è più Io ho ereditato la sua luce Maestro è lei? Ma è un impostore Sono io Sono arancione meraviglioso Ok è lei è lei Mi parri se è lei Esatto Oh alla prima è lei per forza È lei per forza maestro Vado ragazzi Tartorias Guarda mi bevo anche l'acqua Tartorias Tartorias Eh Bel colpo No 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 Non scappare Non scappare Yes Ma ora Sì? Dovresti aprire qualcosa in diretta Tartorias ha avuto del cat content Questo è un montaggio amatoriale Allora faccio partire Guarda che avevo interpretato il suo volere Ah è proprio È proprio l'R2 Eh stai calmo Che sto facendo delle prove Ah Oh non si può interruttare No Commitment Artonia A man has fallen into the river In Lego City Start the new rescue helicopter Hey Yeah Yeah Fuck you Allora Stavo sperimentando A mia discolpa Mi scrivono che così è finito nell'abisso Esatto No Torno indietro Eccolo qua Eccolo No sono morto Se abbiamo a che fare Con l'umanità Per fare Oh mio dio È gaff Ma una spada nel culo Gaff Sei tu? Oh gu Gaff 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 Sì Gaff Gaff Sei tu? Sì Oh mio dio Si si vola Minchia se lo prende da qua È Sniper Elite E quindi adesso si fa come boss grounded Oh yeah Maestro è possibile la prossima volta cominciare dal drago? Oh yeah Oh yeah Grazie a tutti